Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che stai trascorrendo un bellissimo sabato. In questo video vi parlerò di un difensore centrale classe 99 di nazionalità brasiliana che insieme a un suo compagno di squadra a breve firmerà per un club italiano. Prima di venire a noi però vi invito sempre a lasciare un like al video, iscrivervi al canale, a condividere, attivare la campagna in origine, le notifiche e di dare uno sguardo e guardare appunto l'info box al link del mio secondo canale in set football dove parlo di calcio soprattutto italiano ma in lingua inglese. Vi faccio preliminarmente anche due annunci. Il primo, come vi ho detto anche nel video di ieri, in un video di ieri, che realizzerò quattro video in merito alla situazione della nazione italiana, al futuro della nazione italiana. Seconda news, tra le 19.20, salvo intoppi, dovrebbe uscire un mio video appunto dove, il primo di una serie di tre video, dove andrò ad analizzare sette squadre, le prime sette squadre di serie A, non prime sette squadre in relazione alla classifica ma in ordine alfabetico semplicemente. Quindi appunto tre video, sette il primo video, sette il secondo video e sei l'ultimo per arrivare a una totalità di venti squadre. Quindi ricordate, tre video che appunto andrò a realizzare e oggi caricherò il primo. Ma veniamo a noi. Vi voglio parlare appunto di Ruan Tressoldi, difensore centrale brasiliano del gremio de Porto Alegre, classe 1989, cresciuto calcisticamente nel gremio e alto di 187 centimetri. Dovrebbe firmare, anzi firmerà quasi sicuramente con il Sassuolo insieme al suo compagno di squadra Matteus Enrique. La sua presentazione la trovate come sempre qui sotto nei link che vi lascerò. Come cifra totale dovrebbe ammontare sui venti milioni di euro, quindi Carnevali ha messo in, diciamo, ha messo a segno un ottimo colpo. Preunque si assicura due giocatori molto interessanti, un 97 e un 99, quindi anche molto giovani. Lui andrebbe a sostituire Marlon, un altro brasiliano, che ha seguito De Zerbi nella sua avventura lo Shakhtar Dionetsk. Ma chi è Ruan Tressoldi? Appunto un difensore centrale, 187 centimetri, e come tipologia è ricco di garra, ricco di foga. Abbastanza pulito nei contrasti, però è comunque un difensore centrale di posizione. Non è che se vede un po' di campo non va avanti, però diciamo che nelle sue caratteristiche non vi è tanto la propensione offensiva, bensì la sua forte attitudine difensiva, abile nei contrasti bassi, quindi nelle scivolate, e l'effetto con tanta foga. E a volte rischia di prendere anche qualche cartellino. Come piedi discreti, non tutto sto che, voglio dire, è più un difensore vecchio stampo, ok? Più come, con le dovute proporzioni, un chiellini, un difensore di ignoranza, di cattiveria, di foga, va dritto sul portatore di palla, quindi va subito a contrasto, cerca il contrasto fisico. In parte sembra anche quasi un piccolo pepe, ma con i pediboni e anche col cervello un po' meno bacato. Però comunque è un prospetto interessante. Aveva il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022, quindi sicuramente nei 20 milioni di euro complessivi, secondo me un piccolo sconticino c'è stato. Nella difesa del Sassuolo potrà sicuramente dire la sua, perché in questi anni il Sassuolo non ha mai avuto un difensore di eccezionale carisma, o di eccezionale personalità. Ovviamente da vedere se poi, tre soldi, Ruan potrà mettere a servizio della squadra emiliana quel tipo di caratteristica, ma sicuramente le basi le ha. Soprattutto lui ha la parte superiore molto sviluppata, quindi veramente uno che, insomma, al porto di palla la spallatina, non la nega, mai. Però comunque è un buon prospetto, sono molto curioso. In relazione a tutta l'operazione mi fa capire, mi fa pensare quanto può essere un po' di pretattica quella di Carnevali, verso la Juve, per Locatelli, perché comunque andrebbe a reinvestire in parte il budget che la Juve gli darebbe. E onestamente, vabbè, che ha ceduto Marlon e tutte queste cose qui. Però faccio un po' fatica a capire, da non contabile, come una Juventus debba fare veramente, no? Come si dice, cavare il ragno dal buco per spendere due, tre, quattro milioni per Caio Corge o Giorgi, come sembra che si dica, mentre il Sassuolo spende e spande 20 milioni di qua, di là, di su, di giù. Non lo so, cioè, posso avere un'idea, però non lo so. Da non economista faccio un po' fatica a capire. Come tutte le squadre abbiano molte difficoltà, invece ci sono alcune che anche in Italia spendono un po' di qua, un po' di là. Magari hanno fatto risparmi in questi anni, non lo so, o magari, appunto, è pretattica. Quindi, quei soldi, magari un pagamento di lazionato che il Sassuolo farebbe al gremio parte di qua ricavato verrebbe comunque dalla Juventus, però per pretattica o per motivi a noi comuni mortali che a noi comuni mortali non c'è concesso sapere, magari, appunto, sta facendo questa sorta di di pretattica non volendosi chiudere delle altre opzioni. Come, ad esempio, l'Arsen, anche se Locatelli ha detto di no, come sembra Liverpool, ma i Locatelli vorrebbe soltanto la Juve, ma comunque non si sono trovati tanti non si sono trovati tanti riscontri su questo interessamento di Liverpool. quindi sarà tutto da vedere. Sicuramente il Sassuolo nel prossimo modulo che andrà ad utilizzare Dionisi, al di là che sia un 4-4-3-1-2 o un 4-3-3 o quello che sia, sicuramente dei giocatori come Ruan e come Matheus Enrique potranno sicuramente dire la loro. Spero che con questo video vi sia un po' più chiaro di che tipo di giocatore possa essere il classe 99 brasiliano. vi invito sempre anche a fini video like, iscrizione, campanellina, visita in set football e ricordate i due progetti, i quattro episodi sulle nazionali e tre episodi sul calciomercato in questa fascia temporale 31 luglio, 2, 3, 4 agosto per poi avviarci verso appunto la fine del mese di agosto e fine il calciomercato e ancora prima l'inizio della Serie A. vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!